ragazzi sono entrato nella versione di content creator di stumble guys e guardate cosa abbiamo qua le ruote spiniamole ok va bene i passi o di poco diseggetta dai 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 ok abbiamo trovato veloci da abbiamo trovato una ragazza di anime bello dai voglio trovare qualcosa torniamo a spinare allora abbiamo trovato di nuovo il tizio dell'anime che ci dà i gettoni però i gettoni molto buoni o se orbit 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 se 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 banana surfer banana surfer dai apocalisse dai 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 belle morte questa dai dai ti prego cos'è questo la ragazzina dell'anime triste va bene direi no vai ti prego ancora non trolla ancora con le monti con le super saiyan ok vabbè insomma i doppioni si trovano molto ma qua abbiamo un botto di gettoni cioè ci faremo un botto allora direi di spinare quest'altra ruota ci riusciamo cosa troveremo un emerito ca allora un'animazione va bene ti prego ma perchè mi trolla sempre quando eravamo vicino alle matti con le super saiyan cioè no emoticon l'animazione del super saiyan perchè mi devo sempre trollare questo gioco però ok abbiamo trovato la spessetta dell'anime ok cd guide cd guide cd guide cd guide cd guide cd guide adesso ci manca un'ultima speciale ma non trova questa cosa ragazzi cd 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 guide di genere le abbiamo trovate praticamente tutte ma io direi di sfinarci qualche epico così tanti girtoni finiamo però abbiamo trovato un'ecita va bene va bene facciamo una di queste non è uscito niente perché non spinare tante picche vabbè questo qua lo faremo in un altro video a questo punto ok vai voglio spinare fino alla morte devo trovare quella dannata animazione di super saiyan ti prego ma perché 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 va lì che fa quella la questa allora cosa troviamo cosa troviamo cosa troviamo da troviamo qualcosa ma credo ho trovato una speciale è di spin ok ma qua abbiamo una spinnare in mare anche velocemente anche anche velocemente spinnare ok adesso chiudo la questa se ho trovato una speciale voglio un miliardo di like un miliardo di like se ho trovato una speciale perché non sia che sia classica molto bene bene ma allora 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 quindi andiamo in questa ruota perché praticamente non manca niente direi di fare questo non è che se qua sono le bandiere però non c'è quello dell'italia cacchio non c'è quella dell'italia come che cosa cosa cos'è russa la bandiera russa ok va bene direi dai fammi trovare quel maledettissimo dark angel non ce la facciamo a trovarlo queste ruote sono scrittate perché sono sempre perché le cose sono messe è sempre la fine lo stesso modo nuovo passi dai fammi trovare qualcosa di vecchio ok la cosa della francia che è più simile all'italia non come la bandiera russa che va bene non è russa quella però insomma siamo così siamo lì insomma spingiamo una alla fortuna special bar cambio special bar cambio bene non è stato assolutamente niente velocity velocity però facciamo un'altra alla fortuna la cosa dell'indonesia come ma il creatore di reggiter bike il reggiter anzi comunque se lasciate like mi insegno come si stalla vabbè adesso ho iniziato a fare tanto sping che mi trovo il d'arcanio sinceramente avevo ma non c'è più 700 stumble coin moni 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 praticamente appena arrivo a 3800 mi posso fare speciali dai e e e e e e e e e ok 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 e e e e altamente rotto il cazzo 10 ha rotto le scatole non ha rotto quello no abbiamo trovato anche l'apocalisse ma io vorrei vedere proprio come come camminano questi dai però ho trovato momento voglio trovare qualcosa 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 cosa me ne frega di velocity ah adesso adesso è finché non trovo qualcosa di docente faccio un tapp ah no è direttamente finito lo spin adesso facciamo gli ultimi 10 di questa ruota se no se non esce niente allora faccio un taglio non trovo la ragazza prima ok ok facciamola l'accettiamo era la ma torta pronta ma 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 perché mi vogliono capitare le speciali doppioni che rosico sono cosa è una cosa che è farfalle questa prima dai ma ancora io devo trovare piccoli e speciali tranne quella che mi manca ma perché perci è che dai però se 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 ho trovato il super saiano 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 guardate i gettoni comunque adesso ho trovato il super saiano faccio altri 10 giri e di nuovo questa qua felice altamente rotto questa perchè da torniamo questa qua di nuovo l'apocalisse l'apocalisse bene ok l'accettiamo di nuovo questa che piange che ci vedrei dai questa animazione quante animazioni avremo dai però ma eh ero così vicino dai dai ma sempre così vicino dai però mi trovate ma perché ci passo sempre così vicino e poi ci sono due passi e cosi delle delle farfalle dai ora così ci passo ci passo così vicino ci passo così vicino ci passo così vicino chi dai facmi trovare qualcosa dai facmi trovare qualcosa che quella che voglio ok ok perché vorrei riuscire a te dai niente ok che 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 che